Noi abbiamo accolto quasi 370 nuclei familiari per un totale di 1.200 persone. Sono passati per il nostro hub che era nella mostra oltremare circa 7.000 persone e in campagna sono arrivate oltre le 25.000 persone. Sarà destinato ai profughi dall'Ucraina accolto in città il ricavato della partita, evento calcistico di solidarietà in programma martedì 24 maggio presso lo stadio Diego Armando Maradona. In campo scenderanno sportivi in carriera e del passato e personaggi dello spettacolo nell'incontro tra Napoli e il resto d'Italia. L'evento inizierà alle ore 18 perché saranno previste diverse attività di sfilate, di esibizioni. Ci sarà una Lop Cup rappresentata da personaggi del mondo della notte e della sicurezza e alle ore 20.45 in diretta su Sport Italia andrà in scena appunto la partita. Alla presentazione con la vice sindaco Mia Filippone e gli assessori allo sport e alle politiche sociali Emanuela Ferrante e Luca Trapanese, anche gli artisti Ciro Esposito e Francesco Cicchella. Questa iniziativa serve a raccogliere fondi per aiutare due associazioni che sono molto impegnate per tutelare, accogliere e supportare le famiglie degli ucraini. Ancora una volta è bene ricordarlo, lo sport è strumento di inclusione e di solidarietà e quindi non è soltanto sport fine a se stesso ma diventa uno strumento veramente per raggiungere grandi risultati. Quest'anno ricorre il cinquantenario della nascita della Nazionale Attori e sono molto orgogliosa di farne parte perché in 50 anni abbiamo raccolto più di 7 milioni di euro destinati a famiglie bisognose, a bambini che avevano bisogno di operazioni, abbiamo pagato viaggi a persone, insomma famiglie che non ne potevano. Quindi fare beneficenza divertendosi soprattutto per noi è motivo di vanto, di orgoglio e siamo particolarmente felici di far parte di questo evento.